Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Buonasera ai nostri ascoltatori del canale 11 di Tele Radio Gubbio, sport incontri del lunedì che per la seconda settimana consecutiva parte proprio da Gualdo Tadino. Questa novità che speriamo sia l'inizio di una serie di situazioni diverse che cercheremo di portare avanti soprattutto per quanto riguarda lo sport nei territori della nostra regione. E siamo partiti da Gualdo, perché da Gualdo? Intanto perché il sindaco Massimiliano Presciutti è molto entusiasta del mondo sportivo e quindi ci ha anche stimolato in maniera particolare. Poi abbiamo scoperto anche l'assessore Emanuele Aventuri che insomma lo sport sono uno dei personaggi del mondo delle istituzioni che io spero di trovare anche in altre realtà di altri comuni di questa regione. che oltre all'aspetto storico che quasi tutti ci propongono ci sono anche belle realtà virtuose ma con tanto entusiasmo per quanto riguarda il mondo sportivo. E allora questo è appunto il secondo lunedì che parliamo di sport a Gualdo presentandovi appunto le varie realtà che danno vita al movimento sportivo gualdese. La scorsa settimana avevamo avuto 11 società, ne abbiamo credo 11 anche questa volta e quindi stiamo andando appunto verso la fine di questa prima parte perché poi nelle successive puntate noi parleremo soprattutto più nel dettaglio delle varie società, andremo a trovarle, alcune verranno ancora qui a trovarci da Emanuele Moscoloni che ha un bellissimo salone auto e che quindi anzi ringraziamo per la sua disponibilità. Allora ricordo che Sport Incontri va in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 23 alle 24 ma adesso per esempio il lunedì andiamo in onda dalle 22.30 e questo potrebbe riguardare anche il giovedì e il sabato ci stiamo quindi andando avanti con la stagione ci stiamo organizzando per ampliare appunto i servizi e le notizie dal mondo sportivo dell'Umbria. Allora io partirei subito a presentarvi gli ospiti di questa prima parte di trasmissione e partendo proprio dal fondo la scorsa settimana abbiamo avuto il basket femminile e chiaramente non potevamo lasciare fuori il basket maschile che tra l'altro a Gualdo ha una grande tradizione allora in rappresentanza appunto del basket Gualdo maschile c'è Eriberto Polidoro vicino a Eriberto Polidoro una scoperta che ho fatto io oggi vedendo a Gualdo la società della ginnastica azzurra il tecnico è Mina e tra l'altro ho saputo prima di iniziare la trasmissione anche una campionessa autentica di questo sport che è la ginnastica artistica ma poi ci parlerà di questa società che sta sviluppando davvero un grande lavoro in uno sport che è tra i più belli che ci sono e anche tra i più spettacolari e anche tra i più difficili ma che comunque stimola tantissime ragazzine e anche ragazzini quindi vediamo l'atletica Taino con Alessandro Tacchi e qui parliamo di atletica leggera e quindi vicino appunto il sindaco Massimiliano Presciutti l'assessore allo sport Emanuela Venturi e poi Michele Allegrucci della bocciofila guallese qui dovremmo parlare visto che le bocce sono anche un altro sport che cerchiamo di portare sempre avanti poi invece avvicinandosi a me abbiamo l'atletico Gualdo Fossato con Carlo Calisti che disputa il campionato di prima categoria di calcio Gironecci e l'Uisp atletico Gualdo con Giordano Brunetti che gioca sempre a calcio e disputa il campionato della Uisp poi chiaramente adesso parlando con loro ci illustreranno chiaramente le loro attività quelli che sono i loro progetti e le loro idee allora si parte sempre da Massimiliano Presciutti che è del sindaco che è arrivato un po' in ritardo non so se è stato un po' il freddo che è ancora qua però l'aria è quella che dovremmo respirare in questo periodo un po' freschina ma siamo ben felici di appunto venire qui appunto grazie anche a Massimiliano Presciutti allora come vedi stiamo rispettando il programma ogni settimana finiremo per fare l'inquadro completo di tutte le società di Gualdo buonasera buonasera grazie Sergio grazie di nuovo davvero perché con questa possibilità che tu insieme a TRG citate possiamo dare spazio a tutto quello che è il grande patrimonio che in questa città in questo territorio e tra l'altro sta crescendo una cosa che abbiamo subito sposato perché noi vogliamo dare il giusto merito a chi quotidianamente in forma quasi esclusivamente volontaria consente sia ai più piccoli ma anche ai più grandi anche quelli un po' più attempatelli come me in alcuni casi di fare una pratica sportiva e di fare in modo che anche dal punto di vista della socialità ci siano spazi importanti credo che voi riuscirete a chiudere questa prima fase con delle belle scoperte oggi ce ne abbiamo altre Gualdo Tadino è una città che non ha solo lustro negli sport cosiddetti tradizionali o quelli più conosciuti ma anche tante belle realtà che tra l'altro si stanno affermando anche, lo dicevamo nelle altre puntate con risultati sportivi importantissimi che non sono per me quantomeno la priorità però aiutano aiuta anche quello quindi credo che noi stiamo dando uno spaccato di una città che nel mondo dello sport può contare e io mi ritengo molto fortunato su tante società tante persone che tra mille sacrifici riescono a portare avanti una pratica che forse in altri centri anche più grandi dei nostri stenta a trovare questa vitalità e anche perché sì, oggi lo sport tra l'impiantistica che spesso deve essere rinnovata che ci vogliono anche nuovi impianti perché in realtà la pratica sportiva la dove poi viene spinta anche dalle istituzioni trova ovviamente parecchi riscontri e parecchi consensi da parte del cittadino più in generale Allora, io adesso partirei proprio dal basket maschile da Eriberto Polidoro che mi dicono essere la storia del basket a guaglio e allora caro Eriberto ci illustri la vostra storia quella passata e quella presente Certamente quella passata ha un curriculum io dico di tutto rispetto perché dal 56 56 57 quando è sorta la società sul campetto dei Salesiani in cemento era il fondo poi si è costruito lì con le nostre mani quelle tribune con blocchi in cemento abbiamo partecipato quella volta a vari campionati erano strutturati un po' diversamente c'era c'era la serie D che era grosso modo regionale e eravamo sempre nelle prime posizioni grande soddisfazione fu quando nel 63 64 la nostra Juniors misurò le proprie forze con la Candy di Bologna Candy Bologna che quella volta era il massimo e aveva fior fiori di giocatori già all'epoca questo successo questa visibilità è stata poi ripetuta a fermo quando abbiamo incontrato il Sansevero che aveva un grosso giocatore un grosso giocatore che ha calcato per tanti anni la serie A era la classe del 50 51 52 i ragazzi che giocavano e poi tra vicende vicende alterne vari presidenti si sono succeduti e una nota curiosa il primo sponsor primo sponsor intorno agli anni neanche 60 58 59 fu di 80 80 mila lire sponsor primo sponsor la rocchetta 80 mila lire allora era della famiglia la rocchetta la rocchetta ci potevamo rivolgere soltanto a una di casa poi iscriviamo anche addirittura al santo padre quella volta era più dodicesimo ancora che eravamo la società PGS Salus polisportiva giovanile salesiana e giocavamo sempre lì nell'istituto salesiano e il papa ci rispose e la lettera è negli archivi dice plaudeva la nostra attività dice ricordatevi però me lo ricordo benissimo questa frase ricordatevi che il papa però non è ricco ci mandò 100 ci mandò 100 100 mila lire quella volta e poi altre come si ricordatevi il papa è povero però ci ha mandato questo più che altro perché è intervenuto anche la PGS come istituzione polisportiva giovanile salesiana che ha durato con questa edizione fino al 79 80 quando il cavaliere Poerio Luzzi fece di sua tasca donò quindi fece costruire il palazzetto lo rifinì mi pare il comune quella volta mise soltanto la struttura interna i cesi e robe varie per 5 milioni consegnò quindi il palazzetto finito consegnò le chiavi al comune chiaramente il palazzetto fu intitolato alla memoria del figlio che era premorto a lui Carlo Carlo Angelo Luzzi si chiama il palazzetto e su su sempre con alterne vicende legate molto come del resto e anche oggi legate molto ai sponsor al dio quattrino siamo riusciti ad avere una visibilità nazionale abbiamo fatto due scalate due vittorie per la serie B e quindi due campionati dunque un campionato di B siamo stati tre anni l'altro abbiamo fatto andata e ritorno invece B e poi giù ritorno l'anno l'anno più disastroso è stato nel 95 quando mi pare su una trentina di partite le perdemmo tutte tutte quante perché oramai la società si era un po' sfaldata e poi è risorta con il nome di basket ASD basket e gualdo 96 e 96 appunto è l'anno del successo un'altra storia che comunque ha dato anche qui altre soddisfazioni insomma perché le due promozioni una è venuta con la precedente l'altra invece con quest'altra società e sotto abbiamo avuto tanti ma tanti ragazzi ne sono passati a centinaia che io fino a che non non è subentrata la tecnologia nel mondo io non sono un tecnologico quindi facevo tutti i tessenamenti conoscevo i ragazzi uno per uno io ancora me le ricordo e di molti ricordo addirittura ancora le date di nascita data di nascita una grande mente attualmente come siete messi con il campionato? beh il campionato se prendiamo la classifica la rovescio siamo primi siete primi campionato di serie C no? sì la C si divide in due categorie la gold e la silver e la gold dove Umbre c'è il Foligno c'è il Perugia e il Vallecepi voi siete silver noi invece siamo silver sì con tutte le altre le altre le altre squadre con le altre Umbre però inseriti nel girone marchigiano con squadre di Ghesi Reganati noi chiaramente come faremo nel proseguere nel nostro viaggio dello sport gualdese fatte queste due o tre quattro puntate credo siano sufficienti per fare il quadro generale di tutte le società sportive poi vi ricontatteremo ad una ad una vi verremo a trovare faremo e lì vi faremo vedere faremo vedere ai nostri ascoltatori l'attività reale che svolgete quella che fate allora grazie a Eriberto Polidoro mente storica del basket gualdo adesso andiamo alla ginnastica artistica che è uno sport non come dicevo prima bellissimo è uno sport che non è semplice anche nemmeno da lo organizzare perché ci vogliono spazio e tutto però la ginnastica azzurra qui a gualdo ho capito che sta facendo un grandissimo lavoro il tecnico si chiama Mina non so se Mina è un nome d'arte so se cantavi è il diminutivo del mio nome che è Alarmina Manove ah ecco è un po' lungo appunto quindi Mina anche perché in Italia Mina è un nome conosciutissimo da da sempre credo da quando ha iniziato a cantare ancora è un grandissimo personaggio va bene a parte questo avete una bella palestra e parliamo un attimo di ginnastica artistica appunto sport per il quale Mina nel suo paese da dove viene dall'Albania in Albania è stata prima seconda insomma lì no sì allora io vengo dall'Albania la società della ginnastica azzura è nata nel 1999 dal cociaro Giuseppe ex atleta ex allenatore della ginnastica azzura che adesso attualmente lui è direttore tecnico della ginnastica maschile nazionale sia del direttore tecnico della ginnastica del trampolino e dal 2005 io lavoro con questa società e con questi anni è molto molto è andata molto avanti noi prima facevamo avevamo un spazio molto grande della scuola molto bella ma poco ore i bambini sono aumentati molto e siamo andati ad un'altra palestra che si trova dietro il negozio il Terranova che è zona ex cop e lì ci troviamo molto molto bene il spazio è molto grande abbiamo molti attrezzi nuovi a livello di tutti non manca praticamente quasi niente in quel sport noi cominciamo ginnastica dai bambini di tre anni fino a 18 19 e anche più chi vuole continuare poi presso questa palestra dentro abbiamo anche la zona fitness dove le mamme mentre che le bambine si allenano anche loro quell'ora fanno ginnastica fitness step aerobica tutto si trovano molto bene anche le bambine sono seguite molto da noi allenatori e in questo caso anche dai genitori vedono le bambine stesse è una una bella bella cosa diciamo un bel allenamento ci state preparando anche diciamo già avete fatto delle gare per preparare atleti o altri che sono terapeutici sì noi come ginnastica adesso facciamo anche noi come basket silver e gold il nostro obiettivo è arrivare al gold sulla specialità ginnastica artistica femminile sulle attrezzi corpo libero trampolino volteggio e la trave siamo arrivati a livello regionale molto avanzato diciamo che siamo anche qualificati sui nazionali sulla festa di ginnastica a Rimini con i buoni risultati le ragazze sono molto entusiaste adesso cerchiamo sempre sempre più migliorare il nostro livello certo Chiara Emanuela Venturi oggi l'ho chiamata contro i nomi diversi allora assessora allo sport le varie discipline sportive questa è la ginnastica artistica che tra l'altro devo dire in Umbria ha una bella realtà città di Castello qualcosa con la forte braccia Perugia Terni ma ci sono poche realtà perché ci vogliono spazi innanzitutto però è uno sport davvero bello dove credo che tutti i genitori dovrebbero portare almeno una volta a provare questo tipo di attività perché davvero poi è anche divertente perché i vari attrezzi ecco per voi cosa rappresentano queste realtà poi dopo ci sono anche tanti ragazzi tante ragazze che contrariamente a quando qualcuno pensa hanno un settore giovanile 130 ragazzi e sono tanti sono tanti tra l'altro Mina ricordava che è un'attività che è andata crescendo fino all'anno scorso se non sbaglio poteva trovare spazio nei contenitori comuni nei contenitori comunali chiaramente dovendosi adattare a delle tempistiche quindi condividendo degli spazi con le altre società che insistono e chiaramente possono incidere su questi contenitori è cresciuta così tanto che ha dovuto trovare un'altra casa più comoda perché loro hanno veramente bisogno come tante altre società in crescita hanno bisogno di spazi flessibili e che consentano loro di avere una tempistica morbida anche perché come ricordava Mina le bambine i bambini perché sono sia maschi che femmine e questo ci tengo a precisarlo perché sembrerebbe uno sport tipicamente femminile non lo è hanno bisogno di tempi morbidi perché i bambini hanno anche tre anni quattro anni sono piccoli e hanno bisogno del comfort che Mina tra l'altro ha trovato una soluzione ha trovato il modo di far allenare le mamme a fianco ai bambini sembrerà banale ma è veramente rappresenta anche questa una componente di sensibilità e di commistione tra due fasce d'età differenti e che trovano in realtà ragion d'essere nel compiere uno sport insieme non è banale vi assicuro che non è assolutamente banale ripeto questo come altri sport stanno crescendo rapidamente non è semplice convogliare questi numeri in una realtà piccola come Gualdo però come vi state accorgendo le società sono tante e tante raccolgono numeri importanti vuol dire che Gualdo è veramente la città dello sport questo è vero adesso al termine del primo percorso faremo davvero un primo bilancio di questo sport a Gualdo va bene quindi potete ecco sempre con mina gli attrezzi li avete tutti in pratica mi dicevi tra il cavallo con maniglie allora abbiamo tutti attrezzi per quando riguarda ginnastica femminile mancano qualche attrezzo per la maschile ma per il livello che facciamo vanno bene anche per maschile manca cavallo ricordiamo che nella ginnastica artistica le donne hanno quattro specialità gli uomini sei sei ecco questo la sbarra aneli corpo libero parallele asimetriche per le ragazze cavallo con gli anelli poi gli anelli e il cavallo con maniglie sono maschile sono maschile sì tra l'altro la ginnastica artistica ha le olimpiadi qualsiasi olimpiadi tira fuori dei personaggi che poi rimangono nella storia dello sport sì questo è per esempio un'altra cosa che va messa in risalto tantissime soprattutto ragazze non italiane ma magari che ne so russi americani giapponesi che restano appunto nella leggenda dello sport sopra anche a tanti altri campioni che comunque questo magari chissà io non me lo sono mai spiegato però che ne so la Comanesi per esempio come ricordo io sono cresciuta con lei tra virgolette che io ho cominciato a cinque anni in Albania adesso la Comanesi è una leggenda che ancora vive vive un po' meno una ginnasta visto che sono andato un po' prima di qualcuno di qui mi ricordo la famosa Olga Korbut che nel 72 una cosa del genere a Monaco fece un esercizio che nessuno poi è riuscito a ripetere in ginnastica ogni esercizio più o meno prende il nome della ginnasta che lo esegue per prima volta esatto i nomi di tutti gli elementi sono sempre dovuti a chi l'ha fatto per prima volta e certo allora adesso andiamo invece all'atletica Taino l'atletica Taino con Alessandro Tacchi abbiamo parlato anche con Mario Procacci che oggi non c'è però insomma c'è Tacchi che è un atleta si è assente per lavoro Mario sei anche un atleta sì sì sono anche un atleta è una parola un po' grande atleta però insomma sono un amatore corro faccio qualche gara porto a casa insomma soddisfazioni personali più che altro e noi sì siamo una società che abbiamo raggiunto un numero di iscritti quest'anno intorno ai 80-85 persone quindi siamo in netta crescita la battuta che facevamo prima col sindaco dice noi siamo fortunati perché non abbiamo bisogno di uno spazio per praticare il nostro sport perché praticamente basta uscire da casa e quella è la nostra palestra il nostro luogo di allenamento quindi su questo niente abbiamo delle persone che comunque gestiscono e portano avanti tutto l'aspetto burocratico quindi iscrizioni iscrizioni alle gare siamo presenti su diverse gare oggi 12-14 persone sono a Napoli per la mezza di Napoli che ci sarà appunto domani e praticamente siamo una società molto molto viva abbiamo avuto due tappe del giro dell'Umbria organizzate quindi da noi con bei risultati la gente è venuta molto volentieri specialmente nella seconda edizione perché aveva sentito parlare appunto della bella organizzazione e dei bei posti che ci abbiamo e abbiamo fatto un bel lavoro anche a stretto contatto con l'amministrazione comunale e quindi siamo riusciti a dare un bel esempio di sport Allora abbiamo le due gare storiche che una è la sfacchinata che viene l'ultima domenica di giugno quest'anno però credo che sia la penultima perché c'è qualche giorno insomma di differenza non mi ricordo bene è una gara che è dal 91 che viene fatta in maniera ininterrotta quindi è una delle più antiche dell'Umbria praticamente e l'anno scorso abbiamo raggiunto intorno ai 300 iscritti quindi siamo molto soddisfatti e un'altra gara che viene fatta a luglio molto caratteristica perché si chiama Tra i Monti di Gualdo che viene fatta su in quota praticamente e quest'anno per la seconda volta è il campionato regionale di corsa in montagna di corsa in montagna quindi quindi non manca non vi manca il lavoro no? no no il lavoro non ci manca non ci mancano neanche le persone che danno una mano quindi sinceramente è molto positivo sì è molto positivo questo è positivo perché spesso tutti no all'inizio si infervorano dopo magari no? sì è anche vero che noi contrariamente appunto agli altri sport non avendo costi di gestione siamo anche una società che non chiede tantissimo perché effettivamente noi ci autotassiamo durante le gare ci autotassiamo per appunto le iscrizioni e tutto quindi abbiamo bisogno di mano d'opera e ogni volta che la cerchiamo non manca la trovate bene allora adesso veniamo al calcio l'altra volta nelle puntate precedenti abbiamo presentato settori giovanelli Barberini e il guallo Casa Castalda adesso abbiamo però andiamo in fila no prima la bocciofila gualdese la bocciofila gualdese ecco bocciofila gualdese Michele Allegrucci che è nel ruolo di giocatore dirigente giocatore consigliere direttivo diciamo allora che categoria sei io faccio la B la B la via de mezzo la via de mezzo fate il campionato regionale sì sì si chiama Coppa Italia che è composta da un giro nell'italiana e attualmente noi la la giochiamo con una squadra di serie C sta quasi finendo siamo in terza posizione ma è un buon risultato un buon risultato certo e a livello invece di tornei organizzate a livello di tornei ecco noi la settimana prossima abbiamo il Memorial Ugo Codignoni che è una gara organizzata dalla nostra bocciofila e ecco si organizzano una o due gare all'anno insieme a tutte le altre bocciofile in Umbria via certamente noi magari chissà fuorasi saremo anche presenti per le finali di questa io vi invito se volete venire domenica 3 marzo di questa gara di questa di questi tornei insomma categorie che categorie è? categorie A categorie A B e C A B e C singolo a coppia a coppia ecco poi bisogna sempre spiegare singolo e coppia allora adesso invece avevo anticipato ma abbiamo fatto proprio in ordine cronologico di come sono seduti l'atletico Gualdo Fossato prima categoria girone C Carlo Calisti che è il presidente sì buonasera a tutti noi siamo una realtà già molto radicata nel territorio anche se veniamo siamo giovani come come nascita perché abbiamo iniziato il nostro percorso lo scorso anno e già questo anno siamo cresciuti ulteriormente inserendo una squadra juniors nel nostro contesto diciamo abbiamo una prima squadra come dicevi tu Sergio in prima categoria abbiamo una juniors provinciale e una squadra di calciacinque maschile che disputa il campionato di serie C a livello regionale quante siete in tutti tra calciacinque? in tutti siamo tra dirigenti istruttori e tesserati siamo all'incirca 80 persone quindi una bella una bella una bella realtà una bella società che ha bisogno come non mai di farsi le ossa ecco forse questo è il termine giusto come tutte le realtà all'inizio è sempre molto difficile infatti i risultati soprattutto nella prima squadra è difficile raggiungerli però noi siamo fiduciosi sappiamo cosa fare siamo contenti di quello che facciamo abbiamo ripeto tanti tesserati con gruppo un unico gruppo compatto e veramente unito e questo a mio avviso fa ben sperare anche per il futuro è chiaro ripeto società nata nel 2016 quindi anzi 2017 credo che fresca fresca e c'è bisogno di creare uno zoccolo duro ecco questo certo quindi per fare questo ci vuole tempo ci vuole sacrificio investimento e soprattutto tantissima disponibilità e tantissima voglia dove giocate il campo qual è allora noi giochiamo al comunale di fossato di vico e anche per un discorso logistico perché poi noi abbiamo molti ragazzi di gualdo molti di fossato ma tanti anche di gubbio che vengono che vengono che sono i nostri tesserati abbiamo una realtà ripeto abbastanza ampia sia come allenatori che come tesserati ripeto siamo una società giovane diciamo che sono due anni che facciamo fatica per stare al passo con gli altri ma sappiamo benissimo che come ogni realtà che nasce ha bisogno del suo tempo certo allora andiamo a un campo calcistico Wisp atletico gualdo Giordano Brunetti che è il dirigente io sono dirigente e calciatore calciatore e dirigente Wisp che campionato disputate Wisp è un campionato amatoriale viene giocato sempre è un normalissimo calcio soltanto che viene fatto da persone che lo fanno per passione per amicizia che hanno voglia di stare insieme tutto questo è sempre fatto da un campionato cioè c'è una classifica ogni partita non come sul calcio che ogni partita vale la vittoria tre punti e il pareggio un punto ma la vittoria due punti come nel basket e il pareggio che esiste un punto la sconfitta ovviamente è zero si giocano diverse coppe in questo campionato che è fatto per allungare i campionati una sarebbe la coppa Umbra che stiamo giocando ancora e siamo nel turno in cui in questa fase se vinciamo che è uno scontro andato e direi è andata e ritorno se riusciamo a passare andiamo a Misano che sarebbe il sogno di questo campionato di questo campionato a Misano per le finali nazionali si è una finale più che nazionale regionale perché comprende i gironi di Foligno che disputiamo noi e i gironi di Perugia quindi sarebbe uno scontro tra i gironi per vincere questa coppa sono quattro squadre che ci vanno andate quindi a Misano anche perché magari comincia un bel tempo quindi unite no? bello anche quello sì perché essendo squadre Umbra che vanno a Misano a fare le finali evidentemente lo scopo è anche quello di farsi una piccola vacanza diciamo che ha giocato per le finali dopo la vacanza ecco prima delle finali viene anche qualcos'altro magari certo no io appunto Sindaco Presciutti questa è l'altra faccia dello sport che però è una faccia forse quella più accessibile un po' a tutti forse quella ancora un po' più vera anche se poi quando si gioca tutti giocano per vincere questo però c'è è un'uito lo sport a qualcos'altro no? ma sì la WISPA a me tra l'altro piace molto perché nel finale della mia modestissima carriera da calciatore dilettante ho avuto modo di fare tre campionati e noi in quel caso andammo alle finali nazionali ad Arta Terme al centro sportivo dell'Udinese quindi fu un'esperienza bellissima e come diceva Giordano è veramente uno spirito diverso cioè si parte per stare insieme poi se si vince è meglio noi all'epoca arrivammo mi pare terzi o giù di lì però conoscemmo tante realtà è stata a tutta Italia e furono quattro giorni di festa continua e di grande socialità quindi ho un bellissimo ricordo di questa esperienza e io come dire applauso al fatto che una società abbia inteso proseguire questa che è un po' una tradizione di questo territorio che va da Nocera passando per Gualdo proseguendo per Fossato perché credo che lo dicevo all'inizio anche quelli un po' diversamente giovani come me io ormai non più ma possono praticare dello sport proprio nel senso letterale del termine cioè per stare insieme per vivere delle esperienze che altrimenti magari non si riuscirebbero a vivere con quello spirito certo allora noi adesso controllo siamo alla fine di questa prima parte della trasmissione poi tra un po' vedrete altri personaggi il sindaco Presciutti l'assessore Venturi rimarranno con noi e vi presenteremo altre realtà appunto dello sport Gualdese intanto io per chiudere vi ripresento i nostri ospiti partendo appunto dal fondo Eriberto Polidoro del basket maschile del basket Gualdo poi Mina ginnastica azzurra ginnastica soprattutto artistica e questo va messo e sottolineato quindi abbiamo l'atletica Taino con Alessandro Tacchi atleta e dirigente quindi come succede spesso in queste realtà quindi abbiamo l'assessore Venturi prima il sindaco ovviamente Presciutti quindi l'assessore Venturi l'assessore allo sport poi una donna assessora allo sport è particolarmente secondo me importante questo delle sport nelle istituzioni credo che lo sport lo facciano meglio le donne anche a livello istituzionale per quanto riguarda forse sono anche un po' più sensibili poi tanto con lei adesso avremo tanti altri momenti per parlare per parlare di sport quindi andiamo con Michele Allegrucci Bocciofila Gualdese abbiamo parlato della manifestazione del 3 di marzo e chiudiamo con l'Atletico Gualdo Fossato di Calcio con Carlo Calistica il presidente e poi UISP Atletico Gualdo con Giordano Brunetti dirigente ed atleta noi tra pochissimi minuti vi presenteremo la seconda parte di questo viaggio attraverso nel cuore dello sport di Gualdo Tadino azienda agricola Pioppi benvenuti nella natura dal produttore al consumatore i migliori carne o vini e suine bovine e avicole tutto a chilometri zero per la vendita diretta il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30 azienda agricola Pioppi e in via Arturo Graffe 35 Svincolo Mantignana telefono 075 6978 756 www.aziendaagricolapioppi.it Contribuire al successo targato Made in Italy Attingere dal nostro saper fare artigiano è la nostra prerogativa principale dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni e il nostro modo di intendere e concepire la moda Badiali realizza capi in Kashmir prendendo ispirazione dalla nostra Umbria fatta di bellezze autentiche e mozzafiato una regione ricca di tempo e di storia dove si possono ancora respirare coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità questo è il nostro modo di essere questi i valori del nostro brand vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica Badiali lo trovi in via Fiamenga 45 47 Foligno Perugia telefono 07 42 20 643 Rosso Pomodoro la migliore tradizione campana italiana a tavola un luogo ideale per ogni occasione spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni i nostri menu stagionali i prodotti slow food il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana anche senza glutine sono i nostri punti di forza Rosso Pomodoro garanzia della qualità al miglior prezzo presso il centro commerciale con le strada siamo aperti tutti i giorni fino alle 24 pasticceria etrusca da 40 anni al servizio dei nostri clienti tutto di nostra produzione bar gelateria tavola calda pranzi veloci aperto tutti i giorni festività comprese dalle 5 del mattino alle 22 pasticceria etrusca se ci assaggi non ci lasci più ci trovi a Perugia in via cortonese 1F di fronte alla sede della regione Umbre al Broletto pasticceria etrusca da 40 anni al servizio dei nostri clienti alla tavola rotonda un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione Umbra e il gusto della pizza offre inoltre nelle sue ampie sale servizio completo per cerimonie e banchetti l'hotel è ideale per gruppi famiglie e coppie parcheggio privato ampio giardino la tavola rotonda a Santa Maria degli Angeli dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi sinoltra nel Bosco di San Francesco incontriamo l'Osteria del Mulino dove i sapori della tradizione Umbra si fondono con la bellezza della natura prodotti freschi e fragranti a chilometro zero sapori decisi e seducenti piatti semplici ideali per assaporare gustose specialità all'Osteria del Mulino l'alchimia finale garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato Marina è sempre brillante in forma sorridente il suo segreto beh il suo segreto lo sanno tutti è il Bar Pippo fai partire bene la tua giornata vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo brioche, caffè, cappuccino spremuta al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi anche per un pasto veloce e un buon aperitivo oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con lotto e super enalotto Bar Pippo via Pietro Soriano zona Sant'Andrea delle Fratte Perugia Bar Pippo sempre gli stessi dal 1964 la tua sicurezza a 360 gradi Unipolzai divisione la previdente di Giampiero Pisello assicurazioni furto incendio RC auto vita accantonamenti pensionistici finanziamenti e premi a tasso zero consulenza specializzata ci trovi a Perugia via Briganti 93 Unipolzai divisione la previdente di Giampiero Pisello e non sbagli un copo bene bentornati qui a sport e incontri del lunedì ricordiamo che partiamo da Gualdo Tadino questa è la seconda settimana ma ce ne saranno altre che apriremo sport e incontri la settimana di sport e incontri da Gualdo Tadino appunto presentandovi quello che è la realtà sportiva soprattutto la realtà sportiva di Gualdo Tadino ma perché no anche parlare di qualche altra cosa mano in mano che andiamo avanti sport e incontri ricordiamo va sul canale 11 dal lunedì al sabato dalle 23 alle 24 in questo caso per esempio il lunedì partiremo alle 22.30 così come forse il giovedì senza forse dipenderà da noi implementare il nostro lavoro anche il giovedì e il sabato allora la replica il giorno successivo alle ore 12.30 sempre sul canale 11 e poi le 18.15 sul canale 11 su www.trgmedia.it potete rivedere tutte le puntate di sport e incontri in qualsiasi giorno che voi decidiate qualora avreste perso la prima messa in onda o le repliche allora qui andiamo subito a presentare i nostri ospiti partiamo sempre dal fondo parliamo di Ruzzola con Alessio Passeri e Stefano Passeri che è vicino no intanto Alessio Passeri poi vicino ad Alessio Passeri abbiamo Gerry Frate che si occupa di Pugilato e di Giulio quindi parleremo con lui di arte marziale poi Stefano Passeri appunto e qui ritorniamo a parlare della Ruzzola Rigali quindi il sindaco Massimiliano Presciutti e pure Emanuele Aventuri assessore allo sport poi si parla di moto di moto appunto motoclub Gualdo Tadino Gian Tommaso Rosi Polisportiva Gaifana Luciano Recchioni e poi Oriano Anastasi con il quale non è in concorrenza con la poltrona del sindaco con Presciutti questo lo vogliamo sottolineare no perché Oriano ha fatto il sindaco Valfabbrica di qui a Gualda e di casa poteva starci un bello scontro ma forse probabilmente sarà il contrario che Oriano sicuramente sarà schierato da una parte abbastanza precisa come capiremo anche durante la trasmissione allora detto questo io partirei come al solito da in questo caso dalla Ruzzola Ruzzola Rigali Alessio Passeri raccontaci un po' la Ruzzola è uno dei sport popolari che aderisce alla FIGEST se non erro sì come siete strutturati dove giocate perché anche qui ci sono i campi allora noi abbiamo non abbiamo una pista non abbiamo una struttura fissa dove poter giocare noi usufruiamo delle strade comunali o provinciali con relativi permessi svolgiamo la nostra attività diciamo che nel territorio gualdese nel territorio di Nocera nella zona nostra nelle strade quindi nostre e poi ci spostiamo nelle regioni dimitrofe perché l'attività comprende soprattutto la zona di Umbra e Marche come attività nel nostro territorio abbiamo nove associazioni nove ASD abbiamo tre squadre che compongono la categoria A1 perché abbiamo categorie A1 A2 B e C una categoria di A2 e una squadra di A2 tre di C e tre di B quindi ecco questa è un po' l'entourage e diciamo che siamo tutti tra tutti siamo circa 120 associati quindi che giocate a Ruzzola che giochiamo a Ruzzola giochiamo a Ruzzola quindi diciamo la specialità è la Ruzzola poi ci sono ci sono altre attività legate a questo che sono il rulletto che può essere il formaggio può essere anche il ruzzolone però sono attività diciamo correlate tutte sì sempre sport storici sì sono sport storici allora diciamo che fino allo scorso anno fino a maggio marzo dell'anno scorso anno eravamo riconosciuti era una disciplina riconosciuta dal dal CONI e da maggio siamo diventati invece partnership del del CONI quindi siamo facciamo parte del del CONI quindi siamo affiliati come federazione sì sì come federazione la ruzzola quindi la siete diciamo riconosciuti totalmente dal CONI questo è importante ce l'hai una ruzzola da far vedere ecco no perché appunto ruzzola eccola la ruzzola sì questa è diciamo rispetto al ruzzolone sembra il figlio del ruzzolone sì sì allora questa figlio del ruzzolone come dimensioni diciamo che deve avere un diametro di 13 centimetri più o meno un centimetro e mezzo e come spessore invece 40 centimetri 4 centimetri e come invece peso 600 grammi più o meno 150 grammi più o meno 150 grammi quindi queste sono le tolleranze e la ruzzola è fatta di legno pressato ci sono altre altre forme altri legni che possono essere l'elce che è più leggero magari sui percorsi che sono più bagnati tiene meglio la strada quando vengono fatte le curve eccetera perché il percorso nostro non è solo dritto è anche un percorso con curve salite discese e questa viene lanciata con una spago o fettuccia che ognuno ha la sua lunghezza viene arrotolata intorno alla ruzzola e viene lanciata con uno slancio si chiede che quanti metri raggiungete ogni tiro magari quelli che vengono bene questo non c'è non c'è una diciamo una metratura precisa perché ecco dipende dal percorso su una diretta si riesce a fare anche 300 metri 350 metri sì dipende allora ogni incontro quanti tiri sono allora nell'incontro diciamo ci sono diverse diciamo diversi metodi di gioco c'è a squadre c'è singolo c'è a coppie nella categoria nella specialità a squadre si gioca generalmente a partite si 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 fanno tre tiri una squadra fa i tre lanci la seconda squadra fa i tre lanci e alla fine dei tre lanci c'è chi arriva più lontano prende lo spunto ha vinto e poi diciamo c'è anche la dicevo anche a singolo quindi singolarmente si fanno delle gare durante il periodo invernale e tutte queste gare tutte queste gare fanno acquisire dei punteggi per i campionati italiani so che siete forti voi diciamo che nel 2013 io sono diventato campione italiano di categoria e mio fratello è diventato secondo quindi siamo andati sul podio siete una famiglia forte tosta bene no sindaco volevo dirti che per esempio nelle zone diciamo un po' più periferiche dei paesi tipo di questi comuni importanti vedo che emergono molto e questo è un fatto secondo me che va sottolineato i sport chiamiamoli popolari sport che magari dentro le città hanno meno incidenza e invece qui troviamo una popolazione che e forse questo è il segreto una popolazione che si dedica allo sport quasi totalmente appunto secondo me per merito anche di queste di queste discipline qui e questo veramente è il valore aggiunto culturale e storico delle nostre realtà questa è la mia impressione Sì io credo che la ruzzola come gli altri sport che sono fanno parte della federazione apposita che è nata e sui quali Guadalto Tadino primeggio a livello nazionale e internazionale testimoniano che nulla avviene per caso cioè a dire la società di ruzzola è una società che ormai da tempo vive e opera non solo sul territorio e avere 120 circa iscritti dà il segno di quella che è anche un po' io la chiamo così un'appartenenza a quelle che sono le radici profonde di una comunità e di un territorio perché poi anche giocare a ruzzola io ricordo che facemmo qui mi sembra i campionati italiani qualche anno fa a Guadalino organizziamo i campionati italiani grazie a loro ovviamente e mi ricordo che alla fine di questi campionati ci fu una festa bellissima in Val Sorda dove anche in questo caso certo chi aveva come dì chi si aspettava di vincere e Mario ne aveva vinta era un po' più dispiacito però c'era un clima che ripeto quello che a me piace cioè quello dello stare insieme e di riscoprire quelle che sono delle tradizioni delle cose che sono parte del tratto identitario di una comunità quindi il fatto che lo portino avanti anche e soprattutto dei giovani anche giovanissimi penso che faccia come dire solo che sperare anche per il futuro della crescita di questa federazione noi abbiamo due grandi sogni che è quello di fare in modo che a piccoli passi queste discipline possano arrivare dove sono arrivati sport come il curling magari che però sono discipline olimpiche quindi come dire a piccoli passi dai territori che sembrano marginali ma non lo sono possono nascere grandi cose quindi io credo che la città nel suo complesso debba ringraziare questi ragazzi e questi appassionati che anche in questi sport cosiddetti tradizionali perché la federazione si chiama proprio così danno un grande contributo io dico allo sport a livello nazionale perché poi quando una federazione riesce ad arrivare a certi livelli si impone perché perché dal territorio dal basso si arriva molto in alto quindi grazie veramente per tutto quello che fanno allora chiudiamo questo discorso della ruzzola con appunto Stefano Passeri che ha in braccio magari un'aspirante giocatrice chissà sì ecco anche tu sei stato campione allora sì vice campione italiano appunto come diceva Alessio nel 2013 e cioè hai fatto la finale con tuo fratello come? sei arrivato in finale voi due in finale sì sì abbiamo fatto diciamo tre batterie due il sabato e la semifinale la domenica l'abbiamo passate tutte e tre e poi in finale è andata così scontro in famiglia sì lui ha giocato meglio però bisogna riconoscere anche il fratello sì sì certo poi lui è più tempo che gioca io ho iniziato ecco quindi quindi ci stava insomma sì sì ci stava poi l'ho fatto vincere più grande io ho più tempo quello è importante quello è importante se posso dire prego una cosa proprio della ruzzola come diceva il sindaco è uno sport tradizionale e quello che non si è detto è che a giocare a ruzzola ci sono dai bambini perché dai 14 15 anni fino a gente di oltre 70 anni e anche più e questa cosa all'aria aperta è una cosa bellissima e io sono anche segretario del consiglio di specialità a ruzzola e insieme con il consiglio di specialità stiamo lavorando su sui giovani quindi cercheremo magari in qualche modo di far conoscere questo sport anche a livello giovanile entrando dentro le scuole far conoscere quello che è la ruzzola e far capire quanto si sta bene insieme anche con gente più grande e quindi per passare delle giornate bellissime davvero insieme assolutamente questi poi sono sport che hanno anche sul piano diciamo fisico un'incidenza normale quindi sono anche più gradevoli da praticare allora adesso invece abbiamo il pugilato Gerry frate pugilato e judo Kodokan giusto? Gerry tu sei un pugile ex pugile ex pugile adesso allenatore molto ex adesso allenatore sì allenatore che alleni pugilato anche judo fate cosa? no no io alleno solamente sul settore box la palestra è la stessa già? la palestra è la stessa il presidente è lo stesso noi dipendiamo da due società sia Xen che è un ente promozionale del CONI e dalla FIP i quali presidenti sono Valeria Lerrucci dalla parte dello Xen mentre dalla parte della FIP è l'avvocato Borioni di Santa Maria degli Angeli siamo affiliati con la valle Umbra Nord appunto di Santa Maria quindi dicevo noi abbiamo spesso ospite Franco Falcinelli che è uno dei maggiori dirigenti sportivi nazionali essendo presidente della federazione pugilistica europea e vice presidente mondiale ecco il pugilato in Umbria come che a che livello stiamo insomma c'è qualche pugile anche che può no certo abbiamo a Santa Maria degli Angeli la palestra nazionale dove si radunano varie nazionali anche oltre che quella italiana però io dico la realtà Umbra come si può descrivere? Secondo me stiamo su un buon livello anche perché la valle Umbra Nord sforna sempre dei buoni pugili anche la realtà di Foligno la realtà di Spoleto la realtà di Perugia mentre noi siamo nati nel 2016 da poco abbiamo iniziato con un torneo amatoriale che è andato discretamente bene e da quest'anno speriamo di iniziare l'agonismo l'agonismo quanti ragazzi avete? sui 20 20 ragazzi? beh già io so che lo sport però spesso il pugilato è anche diventato uno sport molto femminile ma non tanto per chi fa l'agonismo ma perché è stato scelto anche a livello femminile così mi diceva Franco perché per la preparazione proprio anche per una questione anche di difesa e per il tipo di preparazione che svolgono le donne parecchie nelle palestre vanno a fare pugilato ma consideri il fatto che la maggior parte delle persone lo fanno tutti amatorialmente amatorialmente agonisti ce ne sono pochi ce ne sono anche perché richiede degli obiettivi ben precisi richiede molto sacrificio sia allenamento fisico che allenamento mentale anzi prima viene l'allenamento mentale poi quello fisico l'obiettivo deve essere puro nel senso deve essere molto lucido uno deve sapere quello che va incontro beh certo il pugilato insomma poi se danno i cazzotti adesso uno la può mettere come vuole è detta la nobile arte e è vero perché è uno sport straordinario che però necessita ovviamente di preparazione di gole chi lo vuole fare a certi livelli certo chi lo fa per una questione fisica e anche di difesa è comunque uno sport da fare come tutti gli altri sport sì sì poi adesso sta prendendo piede la box amatoriale la box che dicevo prima la box light sì che include tornei amatoriali e l'unica differenza che i colpi non vanno affondati è che non esistono KO esatto più uno si fa male e più perde più viene penalizzato certo adesso passiamo al motorismo motorismo con Gian Tommaso Rosi detto Gianni Gianni detto Gianni Motoclub Gualdo Tadino Motoclub Gualdo Tadino ho il piacere di essere il presidente protempore di questo Motoclub che nasce nel 1965 siamo iscritti alla federazione appunto dal 1965 e siamo anche affiliati al CONI partecipiamo normalmente a tutte le gare delle varie categorie che ci sono appunto riguardanti il motociclismo dal trial all'enduro anche la strada sia a livello nazionale che anche oltre quest'anno inteso come 2018 abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna di partecipare a diverse manifestazioni a livello nazionale abbiamo portato a casa bellissimi risultati specialmente nel trial abbiamo partecipato al trofeo delle regioni abbiamo partecipato ad organizzare il trofeo delle regioni che si è tenuto a spello e è un trofeo che vede tutte le regioni d'Italia che partecipano appunto a questa manifestazione molto molto grande abbiamo circa 120 iscritti per l'anno 2018 abbiamo appena aperto i tesseramenti per l'anno 2019 quest'anno il 24 marzo stiamo organizzando una gara di trofeo centro-sud per quanto riguarda il trial una gara nazionale abbiamo in programma la ormai storicissima moto ignoccata che avrà luogo a novembre come tutti gli anni questa è la 27esima edizione di continuo diciamo così senza mai interruzioni nel 2020 invece abbiamo delle importantissime manifestazioni da dover organizzare il campionato italiano di trial che verrà fatto appunto qui a Gualdo Tadino e la storica il rally FIM che non è federazione italiana ma internazionale che come nel 1968 fu organizzato dai motoclub di Gualdo Tadino non c'era Umbra e Assisi nel 2020 per la prima volta verrà rifatta in Italia e verrà fatta cioè siamo il primo motoclub che ha l'opportunità di organizzarla per due volte per cui insomma è un bel traguardo una bella manifestazione alla quale ci teniamo molto insomma abbiamo preso dei begli impegni abbiamo un gruppo abbastanza coeso che riesce a gestire abbastanza bene diciamo così tutta l'organizzazione delle varie manifestazioni perché ci siamo un po' divisi i compiti nel senso che c'è un gruppo che si occupa di trial un altro che si occupa di enduro e io personalmente mi occupo un po' più del settore turistico abbiamo fatto una chiamiamola così un'associazione insieme al motoclub extreme che loro sono affiliati Wisp e gestiscono soprattutto la parte enduro inoltre abbiamo una collaborazione con l'Xpower che è un altro motoclub che gestisce la pista del motocross di Grello per cui niente attività se ne fanno veramente tante eh sì penso quanto abbiamo potuto ascoltare davvero questo motoclub di guaglio talino siete più che mai vivi e vegeti grazie a Dio stiamo funzionando abbastanza bene funzionate benissimo allora anche perché adesso vi sottoporremo al giudizio di un di un personaggio come Oriano Anastasi che di moto che di moto che è un nostro che è un vostro amico 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 no competitor noi non abbiamo competizioni amico allora Oriano che tra l'altro che tra l'altro organizza a a Casa Castalla è una cosa importante no? sì grazie Sergio io comunque il motoclub riguardo sicuramente alla mia età noi siamo molto più giovani nel senso che lo stesso motoclub dei Vigili del Fuoco è nato negli anni 80 perciò complimenti per tutto quello che fanno e anche per l'ambizioso calendario che hanno col quale sicuramente se potremo daremo una mano anche nelle loro manifestazioni e noi organizziamo a Casa Castalla come evento top quella che è oramai diventata una classica la benedizione dei caschi a inizio stagione ancora non abbiamo la data ufficiale perché dovremmo avere dei ospiti dei piloti del motociclismo internazionale che non abbiamo ancora le conferme purtroppo quando si aspettano ospiti che sono impegnati nel campionato mondiale bisogna sempre fare i conti con i calendari con le prove quando inizia la stagione è sempre un po' un problema però credo che sia importante che loro fanno tante cose anche agonistiche noi siamo più a livello mototuristico perché il nostro motoclub organizza uscite organizza egite organizza viaggi organizza tante iniziative delle quali poi parleremo in questa settimana con Antonello Tacconi nell'iniziativa che avremo nella registrazione che si farà prossimamente e credo che sia importante per il territorio pensare anche a quello che è il turismo motociclistico tutto quello che è il turismo slow tra l'altro visto che approfitto la presenza del bravo sindaco di Gualdo Tadino di pensare a un progetto che avevamo in serbo da tanto tempo di fare il turismo slow la Perugia Gualdo Tadino attraverso la 318 un turismo che passa per il Don Man di Casa Castalda lì pensavamo di rivalutare questa strada che è non più utilizzata come grande via di comunicazione ma soltanto magari per il traffico interno anche per quello che è il turismo più lento il mototurismo quello che è magari il turismo il cicloturismo quello che è il camper tutte quelle che sono quelle iniziative e anche perché no la ruzzola che io ho conosciuto oggi tra l'altro pensavo che la ruzzola era questa qui davanti invece quando ho visto che era più piccola dico allora se può fare questo mi sembra sicuramente tutti quegli sport magari che vanno magari con una frequenza magari più lenta ma che consentono anche di viaggiare e vedere il mondo delle situazioni in modo diverso cioè io mi ricordo quando siamo stati in un'iniziativa che abbiamo fatto per il capodanno del 2000 facemmo la Perugia a Parigi in Ape 50 e dovendo dovendo scartare tutte le grandi vie di comunicazione perché ovviamente non potevamo fare le autostrade e ovviamente abbiamo fatto strade più piccole più magari a volte di difficoltà perché abbiamo passato tutto lungo tutto quello che è la valle della Loira e del Rodano e vedevamo che mi dicevano a me era bella l'esperienza del Batomouche in Francia io l'ho fatta con l'ape passiamo a fianco li vedevo i Batomouche la velocità più o meno era quella perciò spesso a volte bisogna anche magari fare un po' la sintesi di tutto comunque complimenti al Motoclub di Gualdo per tutto quello che sta organizzando Sindaco allora questa iniziativa che sta suggerendo Oriano è Perugia la Perugia Gualdo oramai storica però visto che la strada adesso per arrivare a Gualdo io direi per fortuna c'è una quattro corsie anche se ancora un po' da aggiustare ma se si arriva a Perugia facilmente io devo dire che Ottavio detto Oriano perché lui il suono di battesimo è Ottavio però tutti lo chiamano Oriano e va bene e va un po' frenato perché come dire è un vulcane in eruzione continua adesso scherzi a parte ce ne fossero di persone come lui che danno sempre degli stimoli molto positivi ma anche propositivi cioè della serie non bastano solo le buone idee poi bisogna farle e lui su questo diciamo che è un pezzo avanti ha avuto un'esperienza che i numeri certificano essere stata molto apprezzata nel suo comune quindi come dire sicuramente una figura dalla quale trarre il meglio di tutto ciò che può dare io non sono per natura geloso quindi chi ha buone idee che ha voglia di fare che vuole proporre è il benvenuto a Gualdo Tatino come a Nocera Umbra come a Valfabbrica cioè della serie non bisogna essere gelosi noi siamo un territorio bellissimo quando vengono persone da fuori sia per la ruzzola che con il motoclub o con altri da sport rimangono tutti affascinati da quello che è il nostro territorio e il nostro ambiente forse noi ci viviamo tutti i giorni e l'apprezziamo un po' di meno purtroppo ma vi posso garantire che chi viene da queste parti ne parte sempre con un ricordo bellissimo sia dal punto di vista dell'ambiente morfologico sia dal punto di vista dell'ambiente che sanno creare le persone di questo territorio che è una cosa che piace molto cioè quando partono partono sentendosi di casa e quindi con la voglia di tornare questo credo che dobbiamo cercare di valorizzarlo e la cosa che Oriano ha lanciato in questa serie sicuramente è una prospettiva sulla quale insieme lavorare perché poi possiamo mettere insieme i sport a motori ma anche chi pedala o chi corre a piedi chi tira con la ruzzola piuttosto che tante altre possibili discipline che in una via di comunicazione che adesso come diceva lui è fuori dal traffico pesante dal traffico quotidiano può diventare come dire un'arteria che invece serve per attrarre persone per altri tipi di scopi che sono il turismo il vivere bene il mangiare bene lo stare bene lo stare bene Assessore Emanuele Venturi qui andiamo avanti alla scoperta di tutte queste società ecco come riesce perché queste penso che ogni tanto vengono dall'Assessore allo Sport no? Sì ringraziando Dio vengono spesso dall'Assessore allo Sport perché C'è qualche Assessore che non scaura queste cose guarda no no va bene a parte insomma chi mi conosce chi mi conosce sa che ho un carattere socievole a prescindere dai miei moti di di agitazione a volte no a parte gli scherzi è importante invece che le società così dissipate e sparse per il territorio si relazionino a quelle che sono le istituzioni abbiamo cercato di fare del nostro meglio nell'ascoltare nel cercare di implementare di mettere a leva i progetti di ogni singola società anche le più piccole perché come diceva poco anzi il sindaco è fondamentale relazionarsi non solo con le società che appartengono ad un territorio ma è importante comprendere che sono le vere promotrici di questo territorio sono le persone che fanno parte di queste società che conoscono sono anche aree del territorio che spesso all'amministratore che proviene da un pezzo del comune sfuggono ci sono luoghi che per esempio chi gioca a ruzzola o chi corre o chi percorre strade attraverso la moto o attraverso la bicicletta conoscono solo loro ed è importante che nella promozione del territorio passi attraverso queste società che è vero che si relazionano con le amministrazioni ma spesso si relazionano proponendo come appena fattoriano abbiamo avuto un esempio calzante di questa tipologia d'approccio certamente allora io adesso passerei alla polisportiva Gaifana Luciano Recchioni Luciano Recchioni si buongiorno allora intanto spiegaci quando si parla di polisportiva ovviamente si parla di varie attività che voi proponete che svolgete con i vostri soci e che proponete anche ai cittadini sì anche la polisportiva Gaifana ha una sua storia chiaramente perché parte da lontano grazie alla lungimiranza di un professore che tra l'altro in quei periodi era anche consigliere regionale poi era entrato nell'ambito della direzione del CONI quindi grazie a lui si era potuto portare anche in maniera come dire usiamo il termine pesante perché Gaifana voglio dire adesso come allora siccome è suddivisa anche su due comuni stiamo intorno a 500 600 anni voglio dire quindi era anche difficile in qualche modo creare una polisportiva come uno la vorrebbe se la immagina però la lungimiranza di quel soggetto di questo professore che ancora oggi tutti ringraziano è stata ampiamente ripagata e ha dato grande soddisfazione perché poco tempo fa sono stato anche ripreso perché avevo utilizzato da qualcuno perché avevo utilizzato che erano stati messi degli impianti sportivi che tutti ci invidiavano in mezzo a dei campi perché effettivamente così era qualcuno l'ha preso come per dire che eravamo contadini ma penso che tutti quanti discendiamo dai contadini insomma perché questo è un territorio agricolo quindi è chiaro che sia così e quindi stiamo parlando degli anni fine degli anni 70 primi anni 80 e lì si creò questa struttura dove c'era un campo sportivo c'erano due campi da tennis in terra battuta c'era una pista polivalente un campo quindi un campo da calcio in erba che non è che poi alla fine ci stavano in quei periodi ce ne erano tanti nella regione ma anche in Italia perché poi Gaifana aveva come dire quello che quasi tutte le nostre zone hanno un aumento della popolazione nel periodo estivo perché magari rientravano chi è che lavorava lavorava a Roma a Milano insomma chi si era trasferito per lavoro e altro e quindi si fece questa grande opera questa grande opera che tuttora c'è noi addirittura con i campi da tennis si faceva si organizzava uno torneo chiaramente per i non classificati ma c'erano delle figure abbastanza importanti che poi hanno anche cavalcato palcoscenici internazionali e il problema che cosa è successo che nel 97 ovviamente il terremoto lì adesso io non so di chi fu la scelta ma chiaramente nell'emergenza si utilizzò tutta quella struttura proprio per fare un campo base addirittura c'era lo smistamento dell'esercito per quanto riguardava vettuvagliamenti c'era la mensa si era creato insomma di fatto quella struttura ha subito un grosso danno da una parte ha dato una grande risposta perché chiaramente lo capite bene l'abbiamo passato un po' tutti il terremoto quindi sappiamo che quelle strutture visto che ci sono dovevano essere utilizzate però finito il tutto chiaramente la desertificazione è emersa ma anche dietro questo la volontà dei cittadini perché ricordo siamo su un territorio che sta a cavallo di due comuni è un territorio che diciamo in questo momento sta subendo una grande crisi perché diciamo che la lungimiranza non era poi legata a un qualcosa era un credere a un qualcosa perché poi dopo con l'arrivo della famosa fabbrica Antonio Merloni chiaramente poi lì la cosa cominciarono a fiorire diverse cose noi dobbiamo ricordare che a Gaifana ripeto per un paese piccolo c'era c'era e c'è fortunatamente ancora una posta ma il sindaco sa benissimo c'è stata anche una battaglia perché si voleva anche ridimensionare negli orari c'era una banca che oggi non c'è più la fabbrica è chiaramente quello che è quindi chiaramente c'è stato questo depotenziamento territoriale mettiamola così però c'è stata la volontà comunque di ritornare perché chiaramente è nello sport è la prima fase dove l'aggregazione ritorna ad essere importante a far sì che la società ritorna ad essere attiva le comunicazioni insomma quella cosa lì si è capito che bisognava rilanciarla e tra mille difficoltà l'abbiamo fatto io nel mio piccolo chiaramente ho dato anche il mio contributo però c'è stata chi ne ha data molto 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 di più e tra mille difficoltà siamo arrivati ad oggi ad oggi chiaramente vorremmo ritornare a quelle cose che facevamo negli anni 70 anche se 80 anche se chiaramente capiamo che è difficile però la volontà ce n'è tanta la cosa che manca probabilmente sono sempre le persone perché poi quando tu le fai le cose bisogna anche utilizzarle perché poi se tu le fai spendi soldi e alla fine il degrado diventa la prima la prima cosa che emerge però abbiamo visto e quel luogo siccome era anche un luogo dove le comunità che si trovano lì attorno e anche i due comuni di riferimento perché praticamente è baricentrica dal paese di Caifana ne utilizzano e le utilizzano per diverse non solo per farci divertire diciamo i concittadini però anche proprio per i loro sport noi diciamo che per esempio non c'era Umbra addirittura dopo che c'è avuto un brutto trauma sotto l'aspetto calcistico che l'anno scorso non ha fatto nemmeno una squadra nessuna categoria quest'anno addirittura ne ha due quindi ha anche difficoltà dove farle giocare queste squadre poi Caifana su quel campo c'era una squadra che comunque faceva il torneo Arci sta facendo il torneo Arci e oggi è riversato tutto sul capoluogo Nocerino quindi avere a disposizione delle strutture magari anche un po' distanti però poi c'è il settore giovanile quindi è chiaro che diventa una cosa importante ma detto questo quindi diciamo che c'è la necessità che questa struttura ritorni ad essere efficiente a pieno abbiamo avuto delle difficoltà perché chiaramente il post terremoto poi magari avevamo una palazzina che bisognava ristrutturare sempre con i fondi del terremoto si è andati un pochino lunghi poi magari c'erano anche altre priorità ovviamente perché poi dopo ognuno fa le sue scelte però ripeto pur in mezzo a questo caos l'attività è andata avanti a regime diciamo ridotto dopo di che siamo arrivati agli ultimi periodi dove insieme al presidente che stamattina non è potuto venire perché ha problemi alcune situazioni da gestire in famiglia e ci siamo detti bisogna che diamo una svolta e posso ringraziare su questa cosa il sindaco Massimiliano prosciutti ed igualdo ovviamente anche il sindaco di Nocera perché quei territori diciamo che la struttura è sul territorio nocerino dove ci siamo attivati ci siamo attivati siamo riusciti a prendere dei fondi importanti per completare la palazzina che era quella legata al terremoto e addirittura fare dei nuovi spogliatoi per quanto riguarda le attività sportive quindi stiamo andando su una strada abbastanza come dire non tanto lineare perché poi ci sono tutta una serie di problematiche che cercheremo e che stiamo cercando di superare però vorremmo ritornare ad essere diciamo intanto a dimensione d'uomo perché ripeto negli anni 70 80 probabilmente si poteva fare anche altre cose quest'anno in questo periodo probabilmente dobbiamo ridimensionarci anche per le cose che ho detto prima però penso che quella struttura debba ritornare ad essere un punto importante di aggregazione ripeto per tutto il territorio che va dal comune di Guado al comune di Rocera e ripeto poi questo in lineare però è dove dobbiamo anche fare un raggio di circonferenza poi lo vedremo anche appunto nelle prossime puntate qui adesso diamo un diciamo un aperitivo iniziale poi entreremo più nel sistema delle varie società in questo caso anche la polisportiva di Aifana allora siamo giunti oramai alla conclusione però usciamo un attimo dal tema sportivo restituiamo il microfono a Oriano e parliamo di Canapa non quella indiana no quella indiana questa iniziativa della Canapa che ha avuto un gran successo tra l'altro beh ne poteva parlare comunque anche Luciano perché anche Luciano va bene sicuramente più preparato di me l'iniziativa della Canapa nasce da un'associazione che è nata per il quale dovremmo ringraziare sempre il bravo sindaco e devo dire anche la brava assessore che sono stati sempre presenti da quando è nata questa associazione che era nel dicembre del 2017 è nata da un'idea di rimettere a sistema per il territorio per la comunità di Gualdo ma non solo il Gualdo pensando anche ai comuni limitrofi pensando anche alle Marche un sistema di economia circolare che ripartisse dall'agricoltura per arrivare poi alla gestione delle varie filiere siamo partiti insieme con il consorzio ABN la cooperativa ABPU nello scorso anno abbiamo piantato circa 80 ettari di canapa è stata lavorata la filiera agroalimentare è iniziata abbiamo fatto sia olio di canapa che farina per il periodo natalizio abbiamo fatto dei cesti prova che abbiamo magari iniziato la commercializzazione con un panettone fatto con una percentuale di farina di canapa l'olio che è molto molto utilizzato dai sportivi perché è ricco di Omega 3 e di Omega 6 poi abbiamo fatto una farina pura di canapa e una farina già miscelata per fare la pizza siamo ovviamente alla fase dicono zero ma diciamo uno stiamo lavorando e insieme con l'amministrazione comunale abbiamo presentato un progetto per attivare nel territorio di Gualdosatino la filiera agroalimentare questo bando è andato bene abbiamo vinto un contributo per i fondi for 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 ser circa 500 mila euro per attivare la filiera agroalimentare che era praticamente la filiera secondo noi più marginale di quello che volevamo fare perché poi diciamo la canapa è una pianta fantastica noi diciamo come associazione che è il maiale verde che non si butta mai niente perché tranne la radice che rimane nel terreno e poi anche quella è azotata e pertanto fa una concimazione naturale del terreno si può utilizzare al 100% e siamo leggermente indietro con la macchina stigliatrice perché dovremmo fare la stigliatura delle paglie per realizzare poi canapulo e fibra e per fare dei primi prodotti che penseremo di utilizzare per il mercato edile anche perché contattando contattando il commissario per la ricostruzione pensavamo di avere una premialità per chi ricostruisce nel Sisma Centro Italia con i prodotti del cratere una premialità sulla ricostruzione e questo penso che sia importante anche se perché poi la nostra visione però è molto più lontana con l'università pensavamo sempre di studiare nuove forme di nuovi materiali per pensare di andare a fare anche cose più importanti più significative come l'automotive visto che dal 2020 2022 tutta la componentistica anche dell'auto dovrà essere riciclabile bene allora siamo andati leggermente lunghi ma chiudiamo qui questa puntata da Gualdo Tadino da M Auto con protagonisti delle società sportive di Gualdo Tadino anche le polisportive poi con il pezzo finale sulla canapa di Oriano Anastasi che ha completato questa puntata davvero importante perché perché scopriamo sempre più queste realtà sportive Umbre che sono tante con le quali la società può realizzare sempre al meglio le proprie attività sociali lo sport e la società sono due pezzi talmente importanti che tra l'altro la pratica sportiva ma non solo quella agonistica ma la pratica sportiva nelle scuole che speriamo diventi una cosa definitiva ma la pratica sportiva per il cittadino per la salute e che è una cosa altrettanto importante noi sosteniamo che deve essere questo le istituzioni devono riceverlo un pezzo del welfare molto molto importante e vi dico che qui a Gualdo abbiamo trovato questa impostazione e questa situazione sport e incontri va in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato sul canale 11 di Teleradio Gubbio questo lunedì alle 22.30 la replica il giorno successivo alle 12.30 e poi alle 18.15 sul canale 111 andiamo anche in streaming su www.trgmedia.it potete rivedere in qualsiasi momento le trasmissioni abbiamo un nostro sito facebook quindi se ci condividete cominciamo ad entrare anche nel mondo dei social anzi sarà una delle novità ancora maggiori che avremo da di qui all'estate per l'inizio della nostra prossima stagione se riusciremo a avere ancora la forza e la voglia di fare ma se troviamo realtà come Gualdo queste ci hanno davvero stimolato anche a andare avanti con questa trasmissione quindi grazie ovviamente alle società che hanno partecipato ma a me si è presciuti il sindaco di Gualdo Emanuele Aventuri l'assessore allo sport che ci accompagnano almeno inizialmente poi speriamo di averle anche quando cambieremo anche impostazione alla trasmissione ci accompagna appunto lungo questo viaggio nell'Umbria nord-est più o meno siamo sul nord-est grazie Aureano Anastasi a tutti gli altri partecipanti noi ci vediamo domani sera dovrebbe esserci Atletica Leggera mercoledì il calcio poi giovedì si parla di palestre della salute nello spazio sport e società anzi anche qui vedremo poi a Gualdo se hanno realizzato se hanno intenzione di realizzare una palestra della salute perché questo è molto importante venerdì di ciclismo con la presenza della società di Foligno e sabato l'aveva annunciato prima Oriano Anastasi che sarà ospite della trasmissione di Antonello Tacconi perché parleranno di motociclismo ma di motociclismo d'avventura soprattutto con la presenza di Pagliochini credo uno che ha girato il mondo e di Roberto Natali che si appresta sulle orme di Pagliochini anche lui a girare il mondo con la moto ma penso che Oriano delle cose in questo campo ne ha fatte tante tante ne ha da raccontare grazie a tutti e buonanotte grazie a tutti